Ci siamo veramente divertiti, ti chiedo scusa Carlo, voglio chiederti scusa davanti a tutti per tutte le volte che ho scambiato l'ocra per i fagiolini, ora ho imparato la differenza ma li lascio fare a qualcun altro, ecco, quello che ho imparato da questo programma Sarai un'ottima cliente di Aristoteca, è la cosa che a mente avrai seguito Ho capito come si apre una gran seola ma ho anche capito che lo lascerò sempre fare a qualcun altro quindi ogni programma poi ha la sua morale Però è stato bello, il mio rapporto con la cucina è un po' particolare Cucino 5 cose che sono le uniche che mangio e tutto il resto per me è una grande nube nera in odore e in sapore Perciò non hai una scavolina a casa? L'ho appena presa